Ciao, sono Sanael Fatih, ho 24 anni, vengo da Vicenza e di professione faccio la commessa. Tre aggettivi, riccia e ribelle, sempre col sorriso, solare e mi piace abbastanza parlare, forse è logorroica. Parola d'ordine, vive e lascia vivere, non giudicare a primo impatto, posso avere un mio pensiero che magari mi tengo per me e poi vengo a scoprirlo e il mio giudizio arriva dopo. No, ho una pagina Facebook attualmente e una Instagram. Allora, conosco Facebook, il mio preferito, poi Instagram, Twitter, YouTube anche, MySpace. È il creatore di Facebook che mi si è cancellata la pagina, tipo un giorno entro e non trovo più la mia pagina. Io ho pensato, me l'hanno clonata, siccome è successa un'altra mia amica. Oppure mi hanno rubato il mio, sono entrati con la mia password, hanno fatto qualche cavolata e mi hanno spammata a nome mio. Me l'hanno riaperto comunque, con tutte le foto e tutto quanto però. Do il buongiorno sui social, cosa sto facendo e la buonanotte. E dipende anche da cosa sto facendo, se magari sto in un luogo importante anche dici foto. E il sorrisi e quasi, sempre tutte le foto. Poi alcune volte quando do il buongiorno, che sono sotto le lenenzuola, sono un po' magari con la faccia un po' zonnata, però li studio, cioè sono sempre carine. Questo è il buongiorno, semplice. Pazzo intellettuale. Io ho un ottimo rapporto con i cani, ho scelto questo per luce, perché mi ricorda il mio cane, Stewie, che adoro tantissimo. Sempre in mano, sempre in braccio, anche se è più grande, però ci sta sempre per le coppole, no? I love my puppy. Sweet pink candy. Ho scelto la mia colazione ideale, pane, marmellata, latte e se ci fosse anche del miele. Un buongiorno salutare. Il mio bel figlio. Ciao. Ciao. I love it, I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I fresh my car into the fridge, I wish I let it burn